Siamo qui con la dottoressa Lucia Palmisano, presidente sezione Associazione Italiana Sclerosi Multipla AISM Roma. Che cos'è il manifesto della sinergia multipla? Il manifesto della sinergia multipla è un patto, un'alleanza tra la persona con sclerosi multipla e quello che è il protagonista del suo trattamento che è il neurologo e questo diciamo sempre nell'ottica di affrontare la malattia a 360 gradi in tutti i suoi aspetti strettamente medici ma anche quelli che esulano dalla sfera strettamente clinica medica. Quali sono i punti più salienti del decalogo della sinergia multipla? Il decalogo richiede, prevede in primo luogo la capacità del medico di ascoltare la persona con sclerosi multipla ma anche di interrogarla perché la persona con sclerosi multipla a volte può trascurare alcuni sintomi o perché non li attribuisce alla malattia o perché sono invisibili e quindi possono anche essere sottovalutati da chi le sta di fronte. I sintomi invisibili possono essere sintomi molto invalidanti come la stanchezza, sintomi anche un po' più che a volte non vengono espressi perché riguardano delle sfere intime, la sfera sessuale per esempio, sintomi che riguardano la vita delle persone quindi ecco a proposito della sfera sessuale per esempio i dubbi delle persone su una possibile vita di famiglia, sul family planning come si dice adesso. Quindi il medico deve sempre pensare che ha davanti una persona che ha la sclerosi multipla e intorno a questa sclerosi multipla però deve costruire un progetto di vita come tutti e quindi indagare anche sul suo contesto, sul lavoro, sulla famiglia, sulla situazione socio-economica e suggerire su tutti questi punti possibili aree di intervento per mitigare quelli che possono essere gli effetti della malattia su questo progetto di vita.